Mi hanno quasi truffato per 25.000 euro, ci sono andato abbastanza vicino, ma soprattutto ci sono altre aziende che ci sono cascate a pie pari. Quindi, in questo video voglio parlarvi di questa truffa, di come funziona, di quello che ho visto io e di cosa potete fare per tutelarvi in futuro. Magari anche le aziende che sono state colpite da questo evento, da questa attività, si riconosceranno all'interno di questo video e potranno aiutarci a smascherare questo sistema. Cosa è successo? La mia azienda, in particolare io, ho ricevuto un'email da parte di un sales manager di un canale YouTube. Canale YouTube che tratta temi legati al mondo del business, legati a un po' l'attività che facciamo noi con l'azienda. Questo canale YouTube, a prima occhiata, è un canale YouTube di grandissimo successo, che riceve milioni di views su ogni video. In queste mail ci viene chiesto se siamo interessati a sponsorizzare un video che verrà registrato. In particolare, nel mio caso, era un video molto rilevante rispetto a quello che noi stiamo facendo. Ok, quindi magari l'azienda si occupa di CRM. Ci chiedono se vogliamo sponsorizzare un video di questo canale di successo sui migliori CRM da utilizzare nel 2023. E, in generale, è un'email che sembra molto professionale, scritta da qualcuno, non so se è un profilo vero o un profilo falso, però che ha un profilo vero su LinkedIn, che sembra una persona rispettabile, attiva. Quindi, da questo punto di vista, è molto ben fatta. E, una volta che si va a indagare su questo canale YouTube, si comincia a notare qualcosina di strano. Perché? Perché tutti i video hanno un simile numero di views. Video che hanno, magari, un milione di views, tutte quante uguali. O, comunque, in range molto, molto simili. Poi, ho notato che questi video avevano tutti i mi piace nascosti e i commenti nascosti. Non era possibile mettere mi piace. Non è come adesso che non vedi non mi piace su YouTube. Proprio non c'è la possibilità di interagire da quel punto di vista. Non c'è la possibilità di mettere i commenti. Già questa è un enorme, enorme red flag. Perché un canale ha bisogno delle interazioni dei propri utenti per avere successo, per crescere, per essere diffuso. Però, magari, alcune aziende non lo sanno e quindi non identificano questo come un problema. I video sono molto ben fatti. Sono video fatti con attrezzatura professionale. La persona sembra rispettabile. Addirittura, la persona che compare nei video ha dei video con dei personaggi super influenti, super importanti, famosi, con cui ha fatto delle interviste. Ok? Probabilmente sto assumendo interviste pagate. Quindi lui ha pagato queste persone per fare interviste con lui. E adesso utilizza le interviste con queste persone per darsi credibilità. Le mette all'interno dell'home page del proprio canale. E allora tu dici, ma uno che ha fatto un video con il fondatore di questa azienda super figa e questo video ha 2 milioni di views, ma ti pare che si mette a scammare me, semplicemente sta cercando di vendere sponsorizzazioni per il proprio canale. Poi, che succede? Andate a indagare su questa persona e vi rendete conto che ha creato una piattaforma che serve a promuovere i propri video e a guadagnare più views a YouTube sui propri video. Questo perché è importante? Perché chi conosce YouTube sa che ormai YouTube è diventata abbastanza brava a detectare le views dei bot. Ok? Quindi, se io compro una bot farm in un paese del terzo mondo, dove di solito costano poco, in India, e dico, mandami 200.000 views sul mio video YouTube, YouTube tendenzialmente è abbastanza brava a togliermi quelle views dal view count, magari se se ne accorge mi manda anche delle segnalazioni, non mi fa monetizzare quelle views, ok? È per questo anche che YouTube è diventata particolarmente brava in questo. Perché loro pagano, anzi gli inserzionisti pagano, in base alle views, e quindi loro sanno se i YouTuber avessero trovato un modo di farmare views in maniera estremamente economica, allora lo farebbero all'infinito per guadagnare di più da YouTube Ads. Quindi questo è un sistema che loro hanno sviluppato ed è altamente raffinato, ok? Però qua c'è un piccolo loophole. Perché? Che succede? Questi video YouTube, sponsorizzati tramite questa piattaforma, non vengono visti da bot, ma vengono embeddati, magari in siti che ricevono molto traffico, in network di blog che hanno tanti visitatori totali, e quindi tu cominci a ricevere views da questi siti, che sono views legittime, e quindi sono contati da YouTube. Allora perché poi loro, e in questo caso la persona che ha fondato questo sito, nasconde i like, nasconde i commenti? Perché nel momento in cui tu hai un milione di visualizzazioni e di commenti aperti, ma magari c'è un solo commento, allora la cosa è altamente sospetta, no? Oppure, ancora di più, le persone comincerebbero a notare che ci sono questi video da un milione di views con due commenti e comincerebbero a commentare. Questo video è pieno di viewbot, poi chiaramente i commenti su YouTube li puoi nascondere, li puoi eliminare, però sai, dovresti starci sempre dietro, magari ogni giorno qualcuno diverso te lo scrive, prima o poi un potenziale cliente, un potenziale sponsor, becca quei commenti e comincia a farsi due domande e non ti dà più soldi. Perché nascondi like? Stesso motivo, prima si vedevano i dislike, chiaramente un utente che conosce YouTube e vede video di quel tipo mette dislike anche per disincentivare le persone a fidarsi. Ecco perché anche la rimozione dei dislike da parte di YouTube è stata una mossa, secondo me, oscena, però vabbè, questo è un tema per un altro video. Quindi, che succede? Tu, o comunque questi sistemi, si aumentano le views dei video a vicenda e in particolare il founder di questo canale ha capito veramente dov'è la gallina dalle uova d'oro, perché lui sa che le aziende, in particolare aziende B2B nel mercato inglese e americano, sono disposte a spendere un sacco di soldi per sponsorizzare video di questo tipo. E quindi, io vi giuro, ho visto più contenuti di questo tizio sponsorizzate da aziende rispettabilissime, da aziende che conosco, che sono aziende serie, ma magari il loro marketing manager, magari il loro CEO, magari una persona che non è, che bazzica su YouTube quando bazzico io, che non ha l'esperienza nel conoscere il mondo dei YouTuber come una persona che ci gira tutti i giorni, ha detto, wow, pago 20.000 euro per un video che mi fa un milione di views, ho questo CPM relativamente basso, magari, per uno sponsor di un influencer, che in realtà non lo è, però vabbè, è abbastanza altino, però ho questo CPM, si può fare, no? O magari hanno proposto prezzi più bassi e poi ha cominciato ad alzarli dopo. Il problema è che è una truffa, perché tu il milione di views le ricevi, ok? Forse legalmente non la puoi definire una truffa, non lo so, dipende dai termini dei contratti che poi stipuli, però tu non riceverai mai l'awareness o le vendite che ti aspettavi da il milione di views, perché quel milione di views fondamentalmente non vuol dire nulla, è un milione di persone che è andata su un sito in cui quel video lì era inventato, basta. È una serie tipo di scambio views, views per views, addirittura alcuni di questi network sono del tipo tu guardi 10 video e ricevi 10 views sul tuo, cioè è una specie di schema quadratico, ok? In questo caso, di persone che si scambiano views a vicenda per aumentarsi i numeri e nessuno effettivamente darà valore a quello sponsor lì. Quindi ragazzi, io vi volevo mettere in guardia, non ho fatto nomi in questo video, perché non ho ancora, a livello legale proprio, non so cosa posso dire, cosa posso fare, quindi ho deciso semplicemente di parlarvi di uno schema, lo schema che ho visto io. Eviterò forse anche di mettervi screenshot di questo video, perché voglio evitare che qualche stronzo utilizzi questa idea e provi effettivamente a metterla in piedi, è un dubbio che mi è venuto mentre registravo questo video, però insomma confido che ci sia più bene che male che derivi da un video di questo tipo, però eviterò di mettervi link e cose di questo tipo. Siete attenti, se lavorate in un'azienda vedete che ci sono idee di lavorare con certi tipi di influencer, mi raccomando, parlate con i responsabili di quell'area e ditegli di fare i check necessari, perché ripeto, a volte ci sono persone che magari gestiscono dei budget molto grandi, per cui queste sembrano noccioline, vedono views, non capiscono cosa c'è dietro, e quindi danno soldi a queste persone che non se li meritano, che mentono, che raggirano, che utilizzano i numeri per il loro beneficio. Quindi, mi raccomando, diffondiamo la parola, in questo senso, penso che questo sia un tema molto molto importante, continuerò a investigare, magari un giorno avrò qualcosa di più concreto da darvi, vi porterò un video alla coffeezilla con nomi, cognomi, con screenshot, però ci vorrà ancora un po' di tempo, ok? Quindi, io come al solito vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo video, condividetelo con i vari marketing manager della vostra azienda, e come al solito ci vediamo alla prossima. Ciao ciao! Ciao! Ciao!